Siamo in collegamento con Gianna Fracassi che è la segretaria generale di FLC CGL. Con lei parliamo di quali potrebbero essere le novità delle prossime settimane per quanto riguarda il nuovo contratto nazionale di scuola, università e ricerca. Senta Fracassi, a voi risulta qualche novità in fatto di atto di indirizzo? È da un po' che si vocifera. C'è chi dice che l'atto di indirizzo ormai è quasi alla firma e c'è chi invece dice no ma è ancora lontano. Non lo so. Lei che notizia ha e soprattutto che cosa si augura, che cosa pensa in proposito? A noi risulta che ci siano ancora diciamo lavori in corso sull'atto di indirizzo. Come noto l'atto di indirizzo chiamiamolo madre, quello di Zangrill è uscito qualche mese fa. Si sono aperte le negoziazioni per alcuni settori, sanità, funzioni locali e per quello che sappiamo ovviamente c'è un lavoro che si sta facendo anche il Ministero dell'Istruzione. Però segnalo un punto. L'atto di indirizzo è per il comparto istruzione e ricerca. Quindi non riguarda solo ed esclusivamente la scuola ma ci deve essere corrispondentemente anche un atto di indirizzo predisposto dalla Ministra Bernini. Quindi è piuttosto complesso diciamo per i nostri settori mettere insieme questi due ambiti. Per cui quello che immagino è che le prossime settimane si possa arrivare alla conclusione. Ma c'è un problema per chiudere l'atto di indirizzo. Il problema principale che vediamo, perlomeno come CGL, è il fatto che le risorse che sono state messe a disposizione, non solo per noi, ma in generale per il pubblico impiego, sono largamente insufficienti. Senta segretaria però c'è un fatto che ancora di recente, addirittura direi se non ricordo male, in una audizione in Parlamento il Ministro Valditara ha detto esplicitamente che di soldi ne sono stati messi e se ne stanno mettendo tanti. Valditara parla di 160-180 euro di aumento per tutto il personale della scuola. Dove sta allora la verità? È Valditara che, come dire, si allarga un po' o siete voi che legittimamente, dal vostro punto di vista, cercate di restringere per chiedere altri soldi, come peraltro è legittimo da parte del sindacato? Allora, se parliamo di inflazione, purtroppo i numeri non li facciamo noi, li dai Istat, quindi mi sembra evidente che stiamo quasi al 18% nel triennio, chiaro? Il Ministro, anzi il Governo, mette il 5,78. Direi che la distanza è piuttosto ampia. Quando faccio riferimento all'inflazione faccio riferimento all'impatto che comunque c'è già stato sugli stipendi dei lavoratori della scuola, è chiaro? Quindi questo vuol dire che se tu vuoi dare una risposta che minimamente possa recuperare l'erosione che c'è stata, il 5,78 non è sufficiente. Penso che il Ministro Valditara faccia un po' di confusione, perché da un lato, lo scrive anche nel suo libro, mette insieme interventi di natura fiscale come il Cuneo, l'intervento sul Cuneo retributivo, che non ha fatto solo questo Governo, insomma da Draghi in poi si è sempre fatta questa operazione di decontribuzione, ma nulla a che fare con le risorse contrattuali. Tra l'altro riguarda solo una parte dei lavoratori, cioè tutti coloro che hanno una retribuzione inferiore ai 35 mila Euro l'ora. Dall'altro mette insieme gli interventi sul contratto, quelli del 19 e 21 con quelli del 22 e 24. Ecco vorrei dire che sono due stagioni diverse di cui lui, parlo della prima, ha limitatissime responsabilità, perché non c'era banalmente il grosso delle risorse, è stato messo dai precedenti governi, quindi lui deve rispondere delle risorse emesse per questo contratto e queste risorse sono il 5,78 a fronte di un'inflazione che è quasi al 18. L'altro elemento di confusione che mi fa molto preoccupare è questo continuo riferimento ai benefit del Ministro, cioè anche l'ultimo comunicato stampa con cui annuncia sostanzialmente accordi per trattamenti di favore sui conti correnti bancari e altri aspetti, è molto preoccupante perché prima di tutto entra in un ambito che è quello della scontistica, delle convenzioni che a mio parere non compete a un Ministero, però questa sarà una mia impressione. Due in realtà fa un'operazione che pare come dire indorare la pillola di un contratto che rischia di essere molto amaro, perché tra l'altro voglio ricordare una parte di queste risorse è già stata erogata ed è stata erogata nel mese di novembre, anticipando sostanzialmente circa il 50% delle risorse disponibili, quindi noi siamo a fare un contratto con una parte di risorse che sono già state distribuite al personale. Per cui io penso che se si vuole dare una risposta vera all'emergenza salariale che riguarda il personale della scuola, quindi il personale docente e il personale ATA, si devono fare un'operazione di investimento. Le nozze coi fichi secchi direi che poi lasciano il tempo che trovano. Senta, segretaria, secondo lei con il prossimo contratto quali temi, oltre che quello ovviamente di natura economica, che è il tema principe di qualsiasi contratto, quali temi andranno affrontati assolutamente? Allora, ci sono una serie di temi che costano e quindi temo che noi non avremo risorse sufficienti da, come dire, il ruolo unico che è una nostra battaglia ormai da tempo. C'è una necessità che noi abbiamo posto in tutti gli ambiti, per esempio c'è un tema che si chiama fondo d'istituto, cioè va assolutamente aumentato. Se si devono trovare le risorse per aumentare il fondo d'istituto, perché si sta ormai scaricando in quell'ambito una serie molto complessa di attività e quindi le persone devono essere pagate. Noi abbiamo fatto un'operazione nel vecchio contratto rivalutando del 10% i compensi per le attività accessorie, però se il fondo poi non ha la capienza è evidente che è un'operazione che diventa complicata, perché alla fine si fanno i conti con le risorse che si hanno. Quindi il tema del fondo è importante. A mio parere vanno fatte una serie di interventi di sburocratizzazione, soprattutto del lavoro del personale docente, che sta diventando eccessivo. Tra l'altro da questo punto di vista abbiamo letto che si sta per licenziare anche un decreto, semplificazioni all'interno del quale si dovrebbero fare varie operazioni. Qualcune positive, se per esempio lì si interviene su questi aspetti, il contratto può dare poi qualche strumento aggiuntivo, negative se per esempio si pensa di intervenire sugli organi collegiali, come abbiamo capito, insomma si vorrebbe fare o sulla struttura del CSP. Comunque sicuramente noi abbiamo bisogno di proseguire con l'operazione di omogenizzazione tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato, stante il fatto che anche qui abbiamo un elefante nella stanza che è il numero dei precari nel settore scuola. E via dicendo, ovviamente dobbiamo chiudere, concludere anche il percorso che riguarda il personale ATA, anche se lì noi abbiamo fatto un'operazione molto importante sugli ordinamenti e stiamo proseguendo dando attuazione a quei contenuti, insomma le cose da fare sarebbero molte. Il punto è che buona parte di questi interventi ha bisogno di risorse, cioè il contratto se io decido per esempio di dare i tre giorni aggiuntivi per il personale precario è un costo contrattuale, non è semplicemente, questo lo vorrei spiegare perché altrimenti non si capisce perché alcune cose non si possono fare, quindi il contratto ha una capienza che deve essere rispettata anche per allargare i diritti e tutele, per questo oltre che per ovviamente la questione salariale noi chiediamo che si aumentino le risorse. Senta, segretaria, c'è una questione che finora anche la nostra testata non ha esaminato a fondo, magari è l'occasione per parlarne con lei e sentire anche la sua opinione proprio anche da un punto di vista tecnico, quindi lasciamo stare l'aspetto politico sindacale, ma vediamola proprio da un punto di vista tecnico. In questo momento il contratto 19-21 non è formalmente chiuso perché ci sono ancora delle sequenze contrattuali in atto. Da un punto di vista rigorosamente tecnico si può pensare che parte con il contratto 22-24 se non si è ancora chiuso completamente il contratto precedente? Non è mai accaduto, cioè francamente le direi di no perché noi stiamo ancora discutendo alcune sequenze che riguardano la parte scuola e mi riferisco in particolare alle sanzioni disciplinari dove c'è una discussione in corso, ci siamo visti due volte in ARAN e c'è una serie di sequenze che riguardano istruzione e ricerca, alcune anche molto significative, penso al tecnologo, penso ai collaboratori esperti linguistici piuttosto che al contratto di ricerca. Quindi io la vedrei molto complicata sovrapporre queste due discussioni, cioè chiudere alcune parti che possono magari trovare o essere innovate dal prossimo contratto facendo, sovrapponendo i confronti, ecco, secondo me è molto complicato poterlo fare. Mi spingerei a dire che finché non si è chiuso completamente la fase delle sequenze non si può avviare la nuova contrattazione, ma questo però è una questione anche di pulizia come dire della discussione che altrimenti diventa un po' schizofrenica, no? Cioè stiamo parlando di due interventi diversi, di due atti di indirizzo diversi, quindi direi di no. Senta segretaria, CISL Scuola dice che forse col contratto 22-24 si potrà anche parlare di sviluppo di carriera del docente, tema di cui, come lei sa, si parla da almeno un ventennio, probabilmente anche di più. Lei che cosa ne pensa? Ma allora, se parliamo di valorizzazione della professionalità, noi abbiamo sempre pensato che se questo riguarda il personale nel suo complesso, con ovviamente interventi di natura diversi, si può affrontare il tema. Se però per carriera si intende quello che sta scritto nel DL 36, e cioè un modello che tra nove anni prevederà all'incirca 30.000-35.000 docenti che avranno, dei superdocenti che avranno delle risorse aggiuntive, se questo è il modello, noi siamo contrari, cioè non serve neppure alla scuola un modello di questa natura. E speriamo che questo modello, anzi questo contenuto normativo, perché purtroppo è un decreto legge attuativo del Piano Nazionale di Ripesa e Resilienza, di poterlo disinnescare, perché sarebbe una beffa per i quasi 800.000 docenti italiani, no? Pensare che soltanto lo 0,1% ha la dignità di avere risorse aggiuntive. Io credo che si debbano fare delle operazioni prima di tutto sullo stipendio tabellare, perché per parlare di differenziazione di risorse dobbiamo avere delle retribuzioni che siano dignitose da questo punto di vista. E ancora, le retribuzioni sono troppo basse, quindi a meno che non ci siano delle risorse nascoste da qualche parte che non mi sembra di vedere, perché ne servono pure tante, vedendo i numeri del personale della scuola e del personale docente in particolare, io penso che si era molto complicata in questa tornata. In questa tornata possiamo disinnescare, questo sì, alcune previsioni legislative che rischiano appunto di fare un'operazione come quella che raccontavo poco fa. Dopodiché direi alla politica e ai governi di farla finita di intervenire per legge sulle dinamiche contrattuali. Senta, segretaria, io concluderei questa nostra conversazione con un commento con due battute su una questione che è di queste ore, di questi giorni. L'esito del voto per il rinnovo del CSP, esito che stiamo aspettando ormai da un mese e mezzo. I dati non sono ufficiali, ma ormai è abbastanza certo il quadro generale, cioè il vostro sindacato, parliamo di voi, perché io in questo momento con lei sto parlando, il vostro sindacato ha perso un numero abbastanza importante di posti all'interno del CSP. Non sappiamo ancora esattamente quanti, lo vediamo in questi giorni. Però va precisata una cosa, che in realtà il vostro sindacato dal punto di vista numerico. Se guardiamo la percentuale dei voti raccolti, tutto sommato non è andato così male. Quindi la FLC non è un sindacato decotto. Come stanno le cose? Ci vuole spiegare? Guardi, non solo non siamo un sindacato come l'ha definito decotto, ma siamo il sindacato che ha raccolto il maggior numero dei consensi, persino un aumento rispetto al 2015, cosa abbastanza complicata perché noi avevamo tanti tanti voti già nel 2015. Succede perché il sistema di attribuzione dei seggi è un maggioritario per alcuni settori, laddove hai un solo possibile candidato che viene eletto e un proporzionale per altri. Quindi, come è accaduto in questo caso, a differenza del 2015, dove sostanzialmente, diciamolo, noi abbiamo un po' concorso da soli perché siamo stati anche il sindacato che ha fatto l'avvertenza per la ricostituzione dell'allora CNP, poi diventato CSP. Quindi, nell'onda anche di un'iniziativa avvertenziale, abbiamo avuto un risultato straordinario. Questa volta, nonostante abbiamo avuto molti voti in più del 2015, abbiamo sicuramente, ma questo l'avevamo, devo dire la verità, già anche messo in programma, cioè non era una cosa che davamo per scontato di avere il numero di seggio del 2015, abbiamo qualche seggio in meno. Qui però ci sono alcune riflessioni che vorrei condividere con lei. La prima, noi avremo la riunione questa settimana, riscontriamo un dato, e cioè quello che lei diceva, che a un mese e mezzo, quasi due, tra un po', dalle elezioni non abbiamo ancora dati definitivi. Ci sono stati tantissimi errori. Noi non abbiamo, tra l'altro, anche stiamo chiedendo, stiamo mandando PEC a tutti gli ambiti territoriali per avere i verbali, quelli definitivi, per avere anche qualche chiarificazione in più, perché questa tornata è stata proprio tormentata, direi, da errori di varia natura, da verbali in cui risultavano più voti che votanti, quindi cose abbastanza bislacche, a proprio errori nella compilazione poi dei verbali. Ci abbiamo una difficoltà nell'avere da parte di alcuni uffici scolastici regionali il verbale definitivo, non anche questo è incomprensibile per quale ragione stiamo facendo l'accesso agli atti, perché crediamo che questi siano, diciamo, informazioni che devono essere date e devono essere trasparenti e non le nascondo che abbiamo qualche segnalazione di qualche elemento oscuro, ecco, lo definisco così, in alcuni territori. Noi indagheremo fino in fondo su queste segnalazioni che sono preoccupanti, lo sa perché? Sono preoccupanti perché penso che qualunque elezione, che sia quella del CSP o siano le prossime dell'RSU, devono essere caratterizzate in questo settore dalla massima trasparenza, da una legalità assoluta, perché stiamo parlando del sistema scolastico, quello cioè che costruisce anche i cittadini del domani, ecco, mi sembrerebbe davvero inaccettabile, no? Se ci fossero in qualche modo comportamenti che vediamo fuori da questo sistema e quindi questo è un punto di preoccupazione, di preoccupazione da parte nostra. Dopodiché le dico che noi siamo soddisfatti, ma non lo dico per ritualità, lo dico perché diciamo che il numero di voti è tale per cui più di così risultava parecchio difficile e questo vuol dire una cosa, certo ci sono territori che hanno raggiunto risultati inferiori o sono in linea col 2015, ma se io guardo le grandi regioni del nostro paese, ma anche le piccole, a dire la verità, siamo sempre il primo sindacato e allora questo, come dire, ci conforta anche in previsione dell'RSU. Io penso che anche chi ha tentato di agitare sbagliando la bandiera del contratto, pensando che le elezioni del CSP fossero un referendum sul contratto 19-21, purtroppo dico, visto anche il voto complessivo di tutti i firmatari del contratto, insomma non è che proprio abbia avuto una qualche conferma di quelle che sono le volontà e il consenso dei lavoratori e delle lavoratrici della scuola. Senta fracassi, un'ultima battuta, in sostanza diciamo la verità, nel 2015 il meccanismo elettorale in qualche modo vi aveva dato qualche piccolo vantaggio, siete stati fortunati, mettiamola così, questa volta lo stesso meccanismo però vi ha creato qualche piccolo problema. Lei complessivamente dice di essere soddisfatta del risultato, ha fatto osservare però che probabilmente qualche problema nella gestione c'è stato, nel concreto voi volete impugnare i risultati del voto? No, assolutamente no, noi siamo, se avremo conferma di situazioni che non vanno, faremo quello che fa qualunque organizzazione sindacale, dato che appunto i voti si svolgono a livello territoriale, faremo quello che dobbiamo fare in quel territorio, ma già lo stiamo facendo perché comunque la richiesta dei verbali va esattamente in quella direzione. No, io penso che dobbiamo riflettere, se ci fosse un'altra stagione dovremmo riflettere sulle rappresentanze che il CSP esprime. Le faccio un esempio, abbiamo un insegnante di scuola dell'infanzia, un rappresentante del personale ATA, tre rappresentanti della scuola secondaria di secondo grado, quattro della primaria, quattro della scuola secondaria di primo grado, ecco questo è diciamo la platea sindacale o comunque elettiva. Io penso che non corrispondano anche numericamente alla complessità, se dovessi dare un suggerimento eviterei per esempio che proprio il meccanismo del maggioritario, infanzia è personale ATA, tu puoi prendere tutti i voti che vuoi ma alla fine sempre uno ne prendi e quindi non risponde neanche al consenso magari che si può determinare nel territorio rispetto o tra le organizzazioni che partecipano. Per esempio sulla secondaria di secondo grado a mio parere la rappresentanza va ampliata per la complessità che questo ordine di scuola, questo grado di scuola rappresenta. Bene, ringraziamo Gianna Fracassi per le sue risposte, ovviamente le facciamo i migliori auguri per la nuova stagione contrattuale che non sappiamo quando si aprirà, se si dovesse aprire nel mese di agosto voi ovviamente sareste comunque pronti per andare all'Aran anche ad agosto. Come è noto i sindacalisti non fanno ferie, perlomeno io non le faccio forse per agosto una settimana ma altrimenti, quindi noi siamo pronti, non è quello il punto, cioè non è il problema di essere pronti, noi siamo pronti anche a stare H24, ecco lo dico come abbiamo fatto anche lo scorso anno. Va bene, grazie ancora e buon lavoro. Grazie.